Buongiorno a tutti, sono un vostro conterraneo che per oltre 30 anni si è occupato di realizzare grandi infrastrutture in tutto il Paese. Non voglio avventurarmi in argomenti particolari, in argomenti strani che conosco poco, per cui il mio messaggio al nostro futuro Presidente della Regione è indirizzato proprio al campo che conosco meglio, che è quello proprio delle infrastrutture. Vorrei suggerirgli di interessarsi in modo particolare con il Governo centrale affinché la nostra Regione possa godere, come molte altre Regioni, di una cura del ferro importante. Ci si sono dedicate anche altre Regioni a questo sviluppo, la Liguria, la Puglia stanno lavorando sull'alta velocità che è una infrastruttura che consente una crescita notevole dei territori. Pensate che noi ancora oggi per andare dalla Mezza a Crotone abbiamo bisogno di tre ore di treno e le altre Regioni in tre ore di treno collegano Roma con Milano, Salerno con Roma in un'ora e mezza, Milano con Torino in un'ora. Questi collegamenti veloci sono una grandissima ricchezza per i territori, hanno costituito un pendolarismo interregionale che ha moltiplicato le possibilità di lavoro. Dobbiamo spingere su questo, dobbiamo migliorare i nostri collegamenti sul ferro, dobbiamo avere la possibilità di raggiungere rapidamente dalle altre Regioni, la Calabria e viceversa. Questo consentirebbe una crescita notevole al nostro territorio. Quindi il miglioramento sul trasporto ferroviario, sulla dorsale tirrenica ma anche sulla dorsale ionica e anche con i collegamenti trasversali, quindi migliorare i collegamenti la Mezza a Crotone, migliorare i collegamenti Cosenza-Sibari per consentire alla nostra Regione una rapida crescita e un migliore futuro per i nostri giovani. Un saluto da un vostro conterraneo che è sempre molto legato alla sua terra.